La crisi climatica sta facendo emergere una nuova forma di disuguaglianza, la cooling poverty. La cooling poverty è la condizione in cui organizzazioni, famiglie ed individui sono esposti agli effetti dannosi del crescente stress da caldo-upido a causa di infrastrutture inadeguate. Si differenzia dalla povertà energetica in quanto tiene in considerazione non solo la dimensione del reddito familiare ma tutta una infrastruttura fisica, sociale e intangibile che se non funzionante pone le persone in una condizione di vulnerabilità al calore eccessivo.